Sabato 19 e domenica 20 ottobre a Colmurano si svolgerà la manifestazione Borgo in Festa con la Castagnate ed il Polentone. Non una semplice sagra di paese ma un vero e proprio contenitore di sorprese che da più di 20 anni la società operaia di Colmurano ci ha abituati a scoprire in ogni nuova edizione. Tante belle sorprese perché cerchiamo di fare sempre di più, addirittura quest'anno anche con il patrocinio della Regione Marchi. Sabato iniziamo intorno alle 15.30 con il lancio dei paracadotisti della ASD Flight Zone di Loreto e per questo ringraziamo anche l'Aeroclub Picenum nella persona di Rossi Cesare che ci ha aiutato nell'organizzare questo evento. Poi i bambini potranno dilettarsi in un laboratorio didattico nella costruzione di aquiloni, dei ritagli di cielo che insegneranno anche loro in un'area apposita, gli insegneranno a far volare gli aquiloni. E poi ritorna nel pomeriggio il tradizionale convegno. Sì, nel nuovo centro di comunità in piazza Umberto I faremo l'ultimo degli eventi per quello che riguarda i quattro elementi, l'area in collaborazione con il comune Colmurano e la comunità montana dei Montiazzurri. Diversi relatori importanti conosciuti sia a livello regionale che nazionale che interverranno, vogliamo fare qualche nome. C'è il colonnello pilota dell'aeronautica militare Luca Massimi con più di 2.800 ore di volo e un brevetto di pilota ottenuto negli Stati Uniti, insegnito nella Croce d'Oro per anzianità di servizio e di numerose medaglie e decorazioni per le missioni di pace in Bosnia e per le operazioni della ex Jugoslavia, Kosovo e Afghanistan. Potrei proseguire con il prof. Massimiliano Fazzini, docente in fisica dell'atmosfera, climatologia e meteorologia applicata presso l'Università degli Studi di Camerino, ma anche docente presso l'Università di Ferrara e l'Università della Sorbonne di Parigi, recentemente apparso anche in un programma televisivo RAI in qualità di consulente scientifico. Abbiamo invitato anche il dottor Giancarlo Marchetti, che ha accettato volentieri, direttore generale dell'ARPAM di Ancona, che ci parlerà della qualità dell'aria che respiriamo in ogni istante della nostra vita. E non da ultimo il dottor Danilo Tognetti, meteorologo dell'Assam, che ci spiegherà come l'agrometeorologia possa fornire un fondamentale aiuto nell'impresa agricola e nella corretta gestione delle culture con metodi a basso impianto ambientale. Sarà nostro ospite chiaramente anche l'assessore Angelo Sciapichetti, l'ingegnere Mirko Mari, sindaco di Colmorano e Gianpiero Feliciotti, presidente dell'Unione Montana Montiazzurri. Sabato sera come sempre allietato da una band e poi parliamo anche del programma di domenica. Sì, il sabato sera ci sarà l'FBT Sound, che farà musica live anni 70-80, musica grandi successi italiani. Logicamente nel contesto della degustazione della tavola che noi imbandiamo per tutti i partecipanti, con le nostre specialità il polentone a ragù, il polentone vegetariano, le scopertiature, le grigliate, gli gnocchi con la papera, le tagliatelle e chi ne ha più da emetta. Soprattutto la nostra specialità, lo gnocco d'autunno, lo gnocco con farina di castagne, con funghi e salsiccia. Chiaramente il tutto anche contornato dai dolci autunnali caratteristici a base di castagne, nonché il classico vimbrulè, vino cotto e compagnia. La domenica inizieremo con le piazzette dei mestieri e dei sabori, con il ricco mercatino vintage e non solo. Abbiamo voluto fortemente la partecipazione di una mongolfiera per far provare a chi vuole, e a chi si sente, a chi ha coraggio, l'emozione del decollo e dell'atterraggio. Chiaramente non sarà un giro completo per poter dare modo di partecipare a tutti. Rimanendo in tema aria, ci sarà una bella esposizione della Fai Production di Grotta a Mare, che produce paramotori e tutti gli accessori per il volo, parapendio e deltaplano. Rinnoviamo quindi l'invito a partecipare? Un caldo invito a partecipare a tutti quanti, perché noi abbiamo messo il massimo impegno in questa organizzazione e sperando sempre nel bel tempo che aiuti un po' tutti quanti, faremo il possibile per farvi trovare al meglio e per darvi di tutto di più per tornare a casa soddisfatti. Grazie. Grazie. Grazie.